Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 46esima puntata di Grand Theft Auto 5 Allora oggi dobbiamo andare a casa di Franklin Almeno è l'unica cosa che ci resta da fare Sono proprio curioso di vedere cosa succede, chi lo va a trovare eccetera eccetera Guarda che giri che mi fa fare Bene, scorsa volta, piccolo riepilogo, abbiamo fatto il grande colpo E alla fine appunto i protagonisti qui hanno litigato Perciò adesso voglio appunto vedere come va a finire Giuro che quello che ha messo nel cartello è out Andiamo a vedere se ho la bella casita che ha Franklin qua Oh, c'è sto qua in macchina Eh, e ora Vedemmo che non ha broken the ball La Penso che possiamo anche togliere il casco per entrare in casa comunque Si, butta il casco in terra Spaggiamo tutto Faccio qua adesso cosa succede Niente C'è proprio So appena arriva a Cossuio Chi rompe Proprio Morty Canning Ehi Hey, slick, è me What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a deafness or something Am I supposed to kill you now? Oh no, bro Not me No Oh, sì Ma questo è il mio figlio Eh, ma questo è il mio figlio Il ha trattato a tutti gli che ha conosciuto Il ha fatto a te con il governo federale E ha messo alcuni venditori di mio negozio Il ha bisogno di andare E sai cosa, volevo dire che questo non è personale Ma è personale Ma i feds, i feds hanno detto che mi ha chiamato Trevor E io ovviamente non posso chiamare i due I feds, Steve Haynes, Dave Norton I own shopping malls I would not employ those two clowns And I make one phone call Their careers, they are over So you gonna A Listen to some 50 grand a year pension hunter Or B, a billionaire Who even the president lets finger his wife Or C, try and be really stupid And save those two idiot mentors of yours And have everybody in the goddamn state Crawlin up your ass A, B or C Time chicken pal Braus, bella risposta Te coputi Sì, siamo a posto Si, spacco a porta Eh no, Trevor non l'uccido Michael nemmeno Ragazzi Vabbè, Trevor non si può uccidere Neanche Michael, sono i personaggi del gioco Non se ne parla La follia, sì Lester Sì Si salviamo sempre noi Bueno, andiamo da Eh, ma è macchina Ah Vedo che mi ha rubato Che coro di odrio Vamos Non sarebbe una decisione che è possibile prendere Perciò Sarebbe da farli fuori Da far fuori quelli lì Che allora siamo a posto Ave dai, ragazzi Mi dirigo da Dov'è la strada? Fammi vedere che Prendo scorciatoie Tiro dritto a manetta Dopo Tiro dritto a manetta Bisogna far qualcosa Bisogna uccidere quegli altri Non possono distruggere la banda Abbiamo appena fatto il grande colpo Eh, adesso sono proprio curioso Di vedere Ma proprio curioso Di vedere cosa salta su E voilà Siamo arrivati Ho cambiato auto Perché l'altra Era leggermente andata E quest'auto Devo dire che Corre anche molto bene Ops Sono andato un poco lungo Aspetta che parcheggio Ops Il bidone dei squash Là Oh, mecca In casa aperta La porta Che bravo Esther Ha 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 I can see that Who are the mother fuckers? Steve Haynes This angry mother fucker From the FIB Devin Weston Man, you know the Oh, that angry That angry Rage fucker From whatever Holy hibernates in Exactly All right, all right I say Kill Michael Then kill Trevor Cosa? Cosa? Grazie I know Ok, but I'm sorry I guess this is it You know I'm doing my best man I don't know how you can deal with both of them I know man Merely Merely I'm doing a lot of heat Because of the shootings At court center And Devin Weston Is A Known to be a major asshole And B Known to be friendly With Don Percival Who runs Meriweather I think actually Weston owns A piece of Meriweather Right 11% Pretty good for a pseudo-liberal Owning a private army So They would both Love To be involved In capturing the bullion That we just lifted If I tell them both That you boys are at the foundry And we're at heights Melting it down And maybe Maybe Both of them Will pay you a visit And BAM We turn it into a A bust I'm not gonna be involved All right I'm gonna get In touch with Michael and Trevor Si You go to the foundry Get yourself set up Ok Fatta Facciamoli fuori Se vogliono eliminarci Oh Chi è che mi ha spostato l'atto? What's up homie? Man Things are kind of fucked up right now It's all good nigga Who better to have in a fucked up situation Than a fucked up Adesso sto qua Fuck 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 Nigga 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 E hanno risorto tutto I'm here Bene Andiamo a prendere l'hammer Come a parte Un lama Ogni volta Come a parte Andare attorno un lama No lamar Lama Stai fatto che sta macchina Drifta un po' troppo Per i miei gusti Comunque Eh ragazzi Sapevo io Non avrei potuto Uccidere Nessuno di due Preferisco andare a uccidere Chi vuole uccidere Perciò Vamos a bailar E a Prendere il lama Per andare nel deserto E poi E poi andiamo Alla fonderia Per fondere Un po' di oro No ho sbagliato Strada Oh Mi scuse Mi scuse No Mi ha fatto apposta Mi scuse Di nuovo Occio Mi scuse Drift Ops La ruota davanti E la ruota dietro Sui piedi Eh Pardon Non l'ho fatto apposta Occio Eh sì Il tricepe donai Dove era Che sei tu Arrangiate Dove sei io qua Omo Dove sei tu Dai Monta su Broca Andiamo a vedere Questa fonderia Senti Il limitatore Proprio Deve sei tu Occio Uyk Occio Occio Vincere Oh Che cosa Roca Occcio Cosa Cosa Lui B Cosa Lui landa No Danto Devin Weston Eh Cosa 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 Oh no, parla un po' ragazzi, non riesce un nene aca qui t'agguita quanto che... Aica n***a n***a f***a f***a e... 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 io li discuto e così. Vediamo questa fonderia o ciò che sbaglio anche a strada. Cosa ti metti tutto il sbiego insieme a noi? Questo è vero. Keep clear, te ne è impunito. Bueno, andiamo dentro questa fonderia. Bravo, ci sa tirare fuori le fusie. Mi sono accorto delle roba, non so. Dov'è il ferro bollente? Ulala! Ma è in funzione allora questa fonderia. Ora che tocchi è ferro. Ulala, crociuolo. E tu stai portando una riflessione? Sì, stai portando una riflessione. È una brava. È una brava. Puoi ottenere il lavoro. Questa brava? Mi fa pensare che questo è un set up. È un set up. Stiamo portando Meriweather e F5B, facendo loro pensare che i metali sono qui. Allora! 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 Vanno e vanno! Allora! Vai, vai, vai. Non sto pensando a cosa fa! Come va. Vanno che va. Vanno e vanno. Vanno e vanno. caldo qui, eh, col giubbottino Trevor almeno è vestito bene uhlala, uhlala da me tre, vorrei che mi traiettolo grosso da me tre, vorrei che mi traiettolo grosso e tre, due, uno fuoco, manetta dove è su, no? dai bastardi, dai che avevo visto dove che si ah, si è morti tutti ce n'è ancora un altro? ah, sono in due tre no ragazzi, non vado a Trevor perché là c'è una zona molto problematica c'è sotto di lui, c'è ora di lui c'è troppo macello c'è che si vede in massa ma è uguale a visore nocturna un altro recetto qua guardio, guardio là giù è morto no, è ancora vivo mori ah beh andiamo, andiamo a salvare la lama qua dai 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 non sarebbe vero se non avessi di salvare la tua assa solo una salvami? credo che volevo solo una compagnia salvami, qua c'è un botto di gente e altro che salvami ancora qui è vivo dove? dove c'è? un altro c'è un altro c'è qua un altro c'è ancora vivo ancora oh beh facciamo una roba più precisa c'è un altro 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 c'è c'è un altro c'è sei il futuro sei nel futuro guardi quello che hai preso guardi attraverso il piano di me do casa portato ah adesso questi qua sono qui da meriweather qua ciao rivemo rivemo no eh si eh vabbè ragazzi l'elicotero eh l'elicotero qua mi ha fregato trovo mi ha fregato fuori fuori da qui eh aspetta no fucile d'assalto adesso ho messo il popò fermo fuori un po' di gente da qua che ora ahi se libera ah basta qui da morire come sparo pianta del deretano proprio dove c'è ho franklin qua ah è proprio qua oh niente ho visto trevor 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 c'è per qua c'è per qua ah ali其实 uno viene preso ah ah mi prendevano allora dovevo saltare magari un po' di video quindi se vedete dei tagli strani di saltoni è perché magari arrivavano l'elicotero non me accorgevo morivo eccetera eccetera sì Sì, dai, sentiamo Lester che dice Lester, tu, sì, tu Sarò io a venire il tuo funerale Un po' di gente da far fuori Il suo carico è Harold Joseph Ok, io posso dire che il agente Haynes Stai a fare un film sullo sul del Piero Pier Il permittario è venuto immediatamente Check in! Non ho voglio dire che f***e Sì, quando ho incontato Allora, allora Ah, ho un signal From Mr. Harold Joseph's phone Nel B.J. Smith Recreation Center No, ho ho, ho ho Ho, 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 ho Siamo a cercare di non associazioni Allora, grazie, dog Hai, hai Cosa hai per me? Tao Ching's credit card Bene, ragazzi E prepariamoci Ad eliminare Un po' di gente